Una raffica di colpi messi a segno tra Sansepolcro e Pieve e Santo Stefano nelle scorse settimane è finito in manette un 28enne, nato in Albania e senza fissa timora, ritenuto responsabile di tre furti ed una rapina. A fermarlo nella notte tra lunedì e martedì a Corciano, in provincia di Perugia, i carabinieri della tenenza di Sansepolcro, i militari sono riusciti ad individuarlo in seguito alle indagini su una rapina in un'abitazione avvenuta lo scorso 10 marzo, a Pieve e Santo Stefano. I carabinieri hanno raccolto numerosi elementi sulla presenza del 28enne all'episodio. Il giovane inoltre sarebbe coinvolto anche in un furto avvenuto nella stessa data a Pieve e Santo Stefano e a due furti avvenuti il 20 marzo a Sansepolcro. In uno di questi era stata rubata anche un'auto. Per compiere reati il 28enne aveva utilizzato un'auto rubata, un Audi A3 scomparsa lo scorso 18 marzo a Belfiore del Chienti, in provincia di Macerate, sequestrata adesso dai carabinieri. I militari inoltre hanno acquisito elementi che dimostrerebbero la partecipazione ai furti di un complice. Un'albanese di 26 anni ricercato per spaccio è attualmente irreperibile.